Bene amici, eccoci ben trovati, l'informazione di TeleIblea sul canale 89, anche quest'anno, questa stagione 2024-2025 che ci porterà, pensate un po', a compiere 50 anni di vita la nostra emittente, infatti il 16 marzo dell'anno prossimo compirà 50 anni. Sono stati 50 anni molto belli per chi li ha trascorsi insieme a questa emittente, siamo tanti che siamo qui dai primi giorni e devo anche dire che abbiamo delle grandi difficoltà, come tutti sanno, la copertura che è regionale ma che costa molto a causa delle tariffe altissime della RAI e tante altre cose. Comunque sono sicuro che ci seguirete anche quest'anno e iniziamo questa stagione facendo un piccolo resoconto dell'estate che è appena trascorso, meglio effettivamente è ancora estate, però voi sapete i ragusani soprattutto dopo San Giovanni se ne turnano a casa, quindi per loro l'estate è praticamente finita. Devo dire che è stata un'estate è particolarmente piena di gente perché a Maria di Ragusa erano tantissime le persone, Marina scoppiava che però, ripeto, non è un gran successo dal punto di vista turistico perché si tratta soprattutto come in questa serata straordinaria riportata dai social migliaia e migliaia di ragazzi che ballano sulla spiaggia, ci si rende conto che è un fenomeno un po' particolare, non è certo un fenomeno turistico. Quindi tanta gente, il tempo è stato buono, lo avete visto tutti, molto caldo, anzi certe volte caldissimo. Gli appuntamenti sono tutti frequentati, anche se il livello spesso non è al massimo, ma come sapete in estate basta che si possa fare qualche cosa e si fa. Purtroppo ci sono state anche diverse tragedie in tutta la provincia, in questa estate diversi incidenti stradali con morti, questo spesso dipende però, non vi dico dalla, non voglio dare colpa a nessuno, ma spesso chi guidano lo sta molto attento, forse c'è il telefonino, insomma spesso tutte queste cose si potrebbero eliminare, si potrebbe magari rischiare meno. Però se sentite le voci ufficiali vi diranno che è stata un'estate bellissima e quindi noi ci atteniamo, però ci sono stati i tormentoni, quei tormentoni che ci hanno in qualche modo accompagnato per tutto questo periodo. Però prima di parlare dei tormentoni sapete che a fine dell'estate, dopo San Giovanni, dicevamo i ragusani se ne tornano a casa, c'è stato San Giovanni. Giovedì scorso, come al solito una festa molto partecipata, c'era la paura che piovesse, il giorno prima aveva piovuto in modo direi anche molto forte, molto evidente, ma fortunatamente poi giovedì non c'è stata pioggia, molta confusione, come al solito. Ora noi non abbiamo fatto la diretta, però subito dopo questo telegiornale trasmetteremo un servizio speciale curato dalla nostra Teresa Guarnuccio con anche l'apporto tecnico che fa vedere i momenti salienti della festa di San Giovanni. Sarà dopo il telegiornale, per la prima edizione, diciamo dalle 22 e 30 in poi, dalle 22 in poi, fino alle 22 e 30. Detto questo, andiamo ai tormentori. Il primo, certamente, il castello di Donna Fugata. Abbiamo noi, noi come emittente, lanciato questa paura del fatto che il castello venisse ceduto semplicemente ai privati e i nostri articoli hanno scatenato delle polemiche, polemiche che si sono poi concretizzate e a un certo punto il prefetto ha sentito il dovere di convocare il sindaco di Ragusa per cercare di capire cosa stesse accadendo. Il prefetto è stato, direi, un buon padre di famiglia, cercando di far ragionare anche il sindaco che ha promesso che avrebbe allungato il bando, ora vi spiegheremo bene che cosa è accaduto, avrebbe allungato il bando, però questa notizia fino ad ora non l'abbiamo. Cioè, nessuno ci ha detto che il comune ha allungato questo bando per partecipare al partenerato con il castello di Donna Fugata. Quindi la cosa ci preoccupa un po', però sappiamo che c'è anche il prefetto come garante, quindi probabilmente su questa vicenda possiamo stare tranquilli. Se non fosse così saremmo molto arrabbiati. Allora, il deputato Campo, Stefania Campo, ha preso molto a cuore questa vicenda, probabilmente perché lei è stata assessore al comune di Ragusa, posso dire che è stata l'artefice del mudeco, il castello lo ha sempre avuto a cuore e si è accorta che qualcosa non funziona. Allora, noi l'abbiamo sentita proprio per farci spiegare, secondo lei, deputato ma politico, che cosa preoccupa in questo bando. Vediamo.